Benvenuti a Un Pass per il Benessere. Oggi parliamo di medicina funzionale con i miei ospiti che vi presento, che sono Giorgio Terziani, ospite fisso di questa rubrica. Buonasera a tutti. Che è Visit Professor in Discipline del Benessere alla St. George School di Brescia, responsabile di un progetto di divulgazione medico-scientifica sull'importanza dell'ossigeno. E in questa puntata è con noi anche il dottor Massimo Spattini, benvenuto. Buongiorno a tutti. Che è medico-chirurgo specializzato in scienza dell'alimentazione, medicina dello sport e tante tante altre cose. Però diciamo che queste sue specializzazioni per la puntata di oggi sono molto importanti perché riguardano il tema che tratteremo. E quindi la prima cosa che vi chiedo è proprio di introdurre il discorso della medicina funzionale. Lo chiedo a lei. La medicina funzionale penso che uno dei massimi esperti in Italia sia proprio il dottor Massimo Spattini. Quindi mi cedi la parola. Sì, ti cedi la parola perché insomma sei il papà della medicina funzionale in Italia. Sì, diciamo un'altra delle mie qualifiche è appunto la certificazione in medicina funzionale acquisita con l'Istituto of Function Medicine in America, che è diciamo l'istituto più rappresentativo per quanto riguarda questa nuova medicina. Io amo dire, ma è lo stesso Istituto of Function Medicine che definisce la medicina funzionale la medicina del domani o perlomeno noi ci auspichiamo che diventi la medicina del domani, anche se le recenti vicissitudini legate al mondo della sanità non sembrerebbero indicare questa direzione. Ma cosa vuol dire? Che cos'è la medicina funzionale? Allora, innanzitutto la medicina funzionale è una medicina che si basa sulla ricerca della causa del problema. Quindi è una medicina finalizzata a creare un equilibrio che eventualmente si è perso nell'organismo. E come si può creare un equilibrio? Si crea rimuovendo ciò che squilibria. Cioè, quindi fondamentalmente la medicina funzionale è una medicina che deve essere finalizzata a identificare la reale causa del problema e rimuoverlo. Viceversa, la medicina convenzionale, quella alla quale noi siamo tutti abituati, è una medicina che non si preoccupa più di tanto di intervenire sulla causa, ma si preoccupa soprattutto di intervenire sul sintomo. Cioè, è una medicina sintomatologica. Faccio un esempio che amo spesso fare, un problema che è molto diffuso perché è legato a tante situazioni, il reflusso gastroesofageo. È un problema che molti hanno oggi. Ebbene, se voi andate da un medico e avete il reflusso gastroesofageo, il medico vi dà un farmaco, l'inibitore di pompa protonica. Cosa fa questo farmaco? Fa sì che voi non produciate più nello stomaco l'acido cloridrico. Di conseguenza, voi continuate ad avere il reflusso gastroesofageo, ma non avvertite il sintomo, cioè il fastidio, perché questo succo gastrico non è più acido, perché non viene prodotto l'acido cloridrico. Quindi non viene risolto il problema, ma il sintomo. Ma il sintomo è spesso un campanello d'allarme, indica che c'è qualcosa che non va. Quindi non deve essere semplicemente represso, ma è un campanello d'allarme che ti deve portare a delle azioni proattive per evitare appunto quel problema. Nel caso del reflusso gastroesofageo bisogna identificare esattamente quale è il problema. Può essere un'eraniatale, può essere un problema di un'alimentazione sbagliata. Molto spesso è un problema di stress che colpisce appunto lo stomaco. E sappiamo come certe problematiche a livello dello stomaco, come anche la stessa ulcera, hanno una notevole componente psicosomatica. E quindi con invece tecniche come possono essere la respirazione diaframmatica, la gestione dello stress, un'alimentazione più idonea, eccetera, noi possiamo risolvere alla base del reflusso gastroesofageo. Viceversa, se noi usiamo questo farmaco che blocca l'acido cloridrico, allora noi abbiamo problemi di maldigestione a livello delle proteine, non le digereremo. Di conseguenza ci saranno dei processi magari di putrefazione, ci sarà una flora batterica intestinale che normalmente risiede nel colon, dove tendenzialmente il pH è più basico, cioè meno acido, che risale perché trova un pH favorevole anche nella parte alta dell'intestino. E questo genera una disbiosi intestinale, disbiosi intestinale che favorisce la formazione dell'intestino permeabile, che fa sì che passino molecole indigerite nel nostro organismo, che vanno nel sangue e che possono essere poi la causa di malattie autoimmuni, e così via. Gli esempi potrebbero continuare all'infinito. Quindi ovviamente la medicina funzionale invece è la medicina del perché, del why, identificare la causa. Un altro concetto molto importante all'interno della medicina funzionale è quello dell'epigenetica. Ci spiega cosa si intende con genetica ed epigenetica? Allora la genetica, come chiaramente il termine indica, sono i nostri geni, come i geni che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori. E quindi fondamentalmente la nostra genetica è immodificabile. Quindi noi nasciamo con i nostri geni. Cioè quindi noi nasciamo come siamo, cioè con i geni che abbiamo. Però, come io dico, noi però diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo, come pensiamo, come ci integriamo, come beviamo. E questo è l'epigenetica. Cioè praticamente l'epigenetica, che il termine appunto significa sopra i geni, sono praticamente quelle informazioni che noi possiamo dare tramite i nostri comportamenti, alimentazione, attività fisica, pensiero positivo, ma che anche ci vengono dall'ambiente esterno nel quale noi viviamo. Queste informazioni sono in grado di determinare l'espressione dei vari geni. Cioè nel senso che noi abbiamo determinati geni. È un po' come dire che noi abbiamo un impianto elettrico nel nostro appartamento che è quello. È stato costruito così ed è quindi quello. E noi ce lo teniamo così. Ma siamo noi che però possiamo magari decidere, schiacciando un pulsante piuttosto che un campanello, piuttosto che un bottone, di accendere una luce o spegnerla o eccetera. Questo è quello che noi possiamo fare con l'epigenetica. Cioè noi con l'epigenetica possiamo accendere o spegnere determinati geni. E questo diventerà molto importante poi quando va avanti nella trasmissione ci parlerà di malattie perché evidentemente una malattia verso la quale siamo geneticamente predisposti non è detto che si manifesti se il medico con la medicina funzionale ci manda nella direzione giusta. Sì perché diciamo che spesso nei confronti della genetica che noi possiamo identificare con dei test per esempio, test genetici che già ci danno proprio l'idea appunto di come noi siamo geneticamente formati. A volte le persone dicono no io non voglio fare il test genetico perché non voglio sapere se magari salta fuori dal test genetico che ho una predisposizione, ho un tumore piuttosto che una malattia grave non voglio saperlo. No è sbagliato perché in realtà la genetica non è il nostro destino. No, semplicemente ci indica una predisposizione. Quindi se noi abbiamo la consapevolezza di avere quella predisposizione con degli interventi epigenetici che sono quindi la nostra alimentazione, l'attività fisica, l'uso dei determinati integratori eccetera noi possiamo modulare l'espressione di quei geni e quindi anche una predisposizione verso una determinata malattia in realtà non si esprime. Questo è un bel messaggio positivo. Si considera che circa il 70-80% delle malattie siano condizionate proprio da un intervento di tipo in questo caso scorretto e sbagliato epigenetico e solo il 20% sia prevalentemente causato da problemi genetici. Poi torneremo sui test genetici. Volevo sapere da lei intanto invece se ci sono a disposizione anche dei test epigenetici. L'epigenetica da molti anni sta diventando una vera e propria rivoluzione nel mondo della medicina e proprio come diceva il dottor Massimo Spattini è fatto di tutti quei fattori che possono interferire. Una tecnologia importante tra queste è una tecnologia russa e tedesca che è denominata S-Drive che ha la capacità di captare in pochissimi secondi e poi in pochi minuti rilasciare un report personalizzato per aiutare il medico e il nutrizionista a personalizzare con l'approccio nutrizionale o nutraceutico oppure di conoscere qual è l'impatto ambientale per esempio dove vive, dove lavora e dove dorme con la persona. Quindi grazie proprio a questo test rivoluzionario direi proprio anche per la velocità che ci permette di mappare questi fattori di rilevare quali vitamine, quali minerali, gli amminoacidi, gli acidi grassi essenziali e soprattutto pensate quanto sia importante capire se abbiamo delle interferenze da campi elettromagnetici oppure da sostanze chimiche e idrocarburi. Oggi abbiamo una vera e propria pandemia che è quella sì che è una vera pandemia legata ai danni da inquinamento. Abbiamo oltre 200 terre dei fuochi in Italia che ancora sono da bonificare abbiamo 98.000 siti di amianto da bonificare e pensate quanto l'inquinamento stia danneggiando la salute delle persone a cominciare anche da quello che non si vede, non si sente come i campi elettromagnetici ma che come sappiamo ricoprono un ruolo chiave nella salute a livello cellulare. Noi siamo fatti di cellule, poi magari ne parleremo più avanti. Ecco, un test epigenetico penso che possa aiutare moltissimo nella clinica. Non so se anche da un punto di vista clinico il dottor Spattini può... Ma appunto come dicevo prima, esiste appunto questa diatriba anche nell'ambito degli scienziati, dei medici, alcuni danno ancora più importanza, magari molta importanza alla genetica, altri dicono che non c'entra niente, è solo l'epigenetica. In realtà sono due fattori complementari, bisogna tenerli presenti entrambi. Difatti io nella mia pratica clinica utilizzo sia dei test genetici sia del test epigenetico, nel caso specifico appunto utilizzo anch'io l'S-Drive che porta questo progetto. Ho visto in un'altra intervista, vero? Sì. C'è l'analisi del capello. Eh sì, dire analisi del capello è un termine un po' riduttivo perché praticamente utilizza il bulbo del capello perché il bulbo del capello alla fine è una cellula e rappresenta praticamente un modello di riferimento dove andare a fare delle valutazioni che sono soprattutto di tipo energetico e quindi vedendo praticamente la presenza di determinate frequenze d'onda e vedendo la capacità di queste frequenze d'onda di entrare in risonanza con tante altre strutture, organi, elementi, eccetera è in grado di dare proprio una visione di tipo predittivo che va oltre e supera quelli magari che si può vedere con gli esami del sangue o semplici esami perché è già in grado di vedere un problema a livello energetico cioè ancora prima che si manifesti un problema a livello anatomico, meccanico, patologico quindi è veramente un esame di tipo preventivo ed è un esame che è proprio totalmente in linea con la medicina funzionale perché essendo in grado di farti vedere determinate alterazioni a livello di squilibri come diceva prima Giorgio, di vitamine, minerali, minacidi ma anche di sistemi d'organi ti permette di fare delle analogie il percorso analogico è fondamentale nella medicina funzionale il percorso analogico è quello che purtroppo in me credo che si sia perso molto nella medicina convenzionale è proprio quello di poter fare dei ragionamenti e poter fare una diagnosi diciamo che abbia una motivazione che ti permetta di capire appunto la causa non semplicemente una diagnosi che identifica una malattia secondo degli schemi precostituiti e che non trovano riscontro nella vita normale perché nella vita normale c'è l'uomo non c'è la malattia cioè noi con la medicina funzionale ribaltiamo il concetto di malattia non c'è più la malattia c'è il malato e quindi la stessa problematica si esprime in quella persona in maniera differente quindi poter effettuare un test di questo genere che ti porta a un sforzo analogico è fondamentale proprio anche per la crescita della capacità professionale del medico purtroppo oggi noi siamo nell'era digitale e siamo abituati a schiacciare un pulsante e avere una risposta faccio un piccolo esempio se noi utilizziamo il metodo digitale se noi nel computer abbiamo che A è uguale a B bene schiacciamo A e il computer ci dice che A è uguale a B poi nel computer abbiamo che B è uguale a C schiacciamo B e ci dice che B è uguale a C ma se nel computer non c'è che A è uguale a C noi non ci arriviamo perché noi non abbiamo la capacità analogica la capacità analogica è quella che ci fa capire che se A è uguale a B e B è uguale a C anche A è uguale a C ma il computer non ce lo dice un esempio veramente molto chiaro vorrei a questo punto parlare anche però di nutrigenomica e poi nutriceutici la nutrigenomica è quella branca della medicina che studia come appunto determinati micronutrienti fitonutrienti sono appunto in grado di influenzare in maniera epigenetica sull'espressione genetica quindi fondamentalmente è una branca dell'ipigenetica che studia proprio come certe sostanze ma certi alimenti, certi integratori agiscono da nutraceutici nutraceutico praticamente è una combinazione appunto del termine nutrizione e farmaceutico cioè praticamente è un nutrimento è un nutriente che riesce ad agire in maniera quasi farmacologica cioè quindi con un effetto terapeutico e di conseguenza questa branca della medicina ha portato a studiare vari alimenti poi vari principi attivi degli alimenti che eventualmente poi possono essere utilizzati sotto forma di integratori che sono in grado di agire epigeneticamente proprio modulando l'espressione dei geni e quindi migliorando il nostro stato di salute e di benessere è importante che siano biodisponibili e poi c'è anche il discorso che oggi sono sempre più necessari proprio per il discorso che si faceva prima cioè del mondo in cui viviamo con l'inquinamento con i cibi che sono depauperati dei nutrienti questo è importante perché le carenze nutrizionali spesso subdole vengono sottovalutate e avere dei modulatori per esempio fisiologici dei nutraceutici che con altissima biodisponibilità assimilazione che possono veramente nutrire la cellula e integrare con le carenze nutrizionali perché comunque ricordiamoci sempre come diceva il dottor Massimo Spattini l'alimentazione è veramente importante quello che tu sei anche quello che mangi, quello che respiri, quello che bevi queste sostanze soprattutto i micronutrienti si possono avere grazie a degli integratori nutraceutici altamente biodisponibili per esempio la via sublinguale poi magari nella prossima puntata ne parleremo in maniera specifica per esempio noi abbiamo dei modulatori fisiologici di ossigeno come questa formula Everett-Story che si chiama Selfood che permette proprio di nutrire le cellule e apportare una mole di ossigeno notevole ai nostri tessuti modulando la richiesta proprio del corpo quindi adattarsi alle specifiche esigenze individuali della persona quindi modula per esempio la stanchezza cronica molto interessante nella fibromialgia nel supporto e recupero per lo sport oppure a supporto di varie patologie come poi vedremo abbiamo dimostrato in molti lavori scientifici queste informazioni sono trattate molto bene nel libro del dottor Massimo Spattini come alimentazione e integrazione dove insomma si parla proprio in maniera importante del ruolo dei nutraceutici e penso che sia uno dei pochissimi libri che abbiamo in Italia così completo e fondamentale e poi un altro libro che parlando di medicina funzionale è la guida alla medicina funzionale io direi un compendium per il medico fondamentale in un approccio multifattoriale, multisistemico nella clinica della persona che è veramente notevole e ho avuto l'onore in questi libri di proprio citare questo modulatore che è Selfood con tutti i riferimenti scientifici i lavori fatti pubblicati naturalmente su riviste internazionali i pubblicati su Pamed che proprio si fanno capire come l'integrazione può essere veramente utile a supporto delle varie situazioni cliniche e quindi essere uno strumento importante anche a supporto della prevenzione esatto appunto della prevenzione prevenzione fondamentale che è la base della medicina funzionale come dicevo prima la medicina funzionale ribalta un po' il concetto dell'approccio medico l'approccio medico convenzionale è quello di curare la malattia invece la medicina funzionale ancora prima di curare la malattia si preoccupa di creare salute e nel momento in cui tu crei salute la malattia se ne va come effetto collaterale del fatto di creare la salute bello come effetto collaterale è certo appunto quindi vedete è un concetto diverso e in più la medicina funzionale e il voler creare salute stare in salute noi oggi lo possiamo ritenere un atteggiamento rivoluzionario perché significa acquisire una consapevolezza e una determinazione che ci porti a degli stili di vita che siano ben precisi che ci porta alla volontà di acquisire continuamente nuove informazioni nuove conoscenze per aumentare il nostro potere la nostra forza e quindi in questo senso appunto la medicina funzionale diventa rivoluzionaria proprio in un mondo dove invece per vari motivi ci vogliono invece deboli e ci vogliono mettere nelle condizioni di subire passivamente tutte le varie imposizioni anche di carattere sanitario che eventualmente ci vengono proposte dall'alto invece dobbiamo essere noi in grado di poter determinare la nostra salute con dei percorsi proattivi io proprio siccome ovviamente questo che ho detto è un po' un riferimento alla situazione che viviamo oggi post-pandemica se la possiamo definire tale dove abbiamo visto come in realtà addirittura gli stili di vita sono stati messi da parte anzi sono stati boicottati come il fatto di non poter andare nemmeno a fare attività fisica all'aperto cose allucinanti quando l'attività fisica insieme all'alimentazione è fondamentale per la salute perché i cardini della medicina funzionale sono appunto alimentazione ed è se la medicina funzionale entrando nei dettagli può essere una medicina che deve essere studiata approfondita ma nella sua pratica può essere proprio semplificata nel togliere le schifezze che metti nel tuo corpo e mettere cose buone cioè questo alla fine è quello che ti dà risultato e attuare degli stili di vita positivi come appunto fare attività fisica e anche la gestione dello stress viceversa è stato fatto tutto il contrario ci hanno proibito di fare attività fisica ci hanno stressato in maniera oltremodo incredibile con messaggi continuamente terrorizzanti cioè quindi creando paura terrore e tutte queste emozioni hanno un effetto tremendo in maniera negativa sul nostro sistema immunitario quando invece si sarebbe potuto dedicare del tempo proprio a promuovere i corretti stili di vita promuovendo un'alimentazione idonea si poteva approfittare per invece niente di questo è stato fatto è stato proposto solo vaccino vaccino non voglio entrare nel merito del vaccino bene ma andava anche promosso uno stile di vita finalizzato a potenziare il sistema immunitario per questo io ho scritto un libro che è la dieta antivirus proprio in occasione della pandemia con un titolo un po' forse di tipo provocatorio ma che in realtà il vero titolo è il sottotitolo come potenziare il tuo sistema immunitario quel libro non l'ho ancora visto immagino che contenga indicazioni anche sui nutraceutici integratori assolutamente guardate questo è un po' un compendio di medicina funzionale che praticamente riassume in maniera molto più divulgativa quello che può essere invece stato scritto nell'altro libro che ovviamente è più per operatori del settore questo invece è un libro che ho scritto in maniera molto divulgativa che può leggere anche la nostra nonna per modo di dire ci torneremo nella prossima intervista dedicavo gli ultimi minuti della puntata proprio ho visto un elenco in una slide di nutraceutici integratori quando si parla di nutraceutici per esempio oltre all'ossigenazione la modulazione di ossigeno è fondamentale parlare di molecole che noi troviamo in tutti i cibi ma a volte questi cibi che non sono stati trattati nella maniera opportuna possono essere carenti come il sulforafano per esempio con la tecnologia Medis che è una tecnologia importante per veicolare queste sostanze permettiamo di nutrire le nostre cellule per esempio episulforafono con licopene un'altra molecola veramente importante è l'esterosimetionina il same il same è un po' la molecola che veniva chiamata proprio si faceva l'intramuscolo poi era il samir ma il same oggi lo abbiamo sublinguale quindi possiamo veicolare questa sostanza che è un epato protettore disintossicante epatico antidepressivo donatori di gruppi metili quindi un prodotto nutraceutico importante naturalmente poi il nutrizionista il medico soprattutto può consigliare in maniera specifica i nutraceutici ma quando abbiamo a disposizione delle molecole che possono nutrire supportare una dieta corretta sicuramente noi rafforziamo il nostro sistema immunitario come soprattutto il ruolo della vitamina C che oggi abbiamo delle formulazioni spray sublinguali di vitamina C oppure la vitamina D che è fondamentale per il nostro sistema immunitario ecco quando parliamo di sistema immunitario non solo virus come abbiamo detto molte tante volte ma capire conoscere tutti i fattori che condizionano la salute della persona occuparci della salute delle nostre cellule migliorare l'ambiente dove viviamo lavoriamo e dormiamo e poi magari fare questo test specifico che è il test S-Drive che ci permette di capire di cosa abbiamo bisogno e l'ambiente in cui dobbiamo vivere anzi ci meritiamo di vivere perché poi la vita è urgente dico sempre che le barre non hanno tasche e dobbiamo pensare alla nostra salute e vivere secondo i principi della natura questo penso che sia fondamentale prevenire meglio che curare oggi l'approccio della medicina funzionale l'approccio nutraceutico la mentalità ci può portare a avere un comportamento per prendersi la responsabilità della nostra salute prendersi a cuore della salute e probabilmente essere di esempio anche nei confronti del prossimo che penso che sia fondamentale ecco tutto poi va relazionato al momento particolare in cui stiamo vivendo nella prossima puntata vedremo che sono aumentate tante patologie tante malattie ripartiremo da qua parleremo di medicina mitocondriale grazie a Giorgio Terziani grazie a voi e grazie al dottor Massimo Spattini grazie a Giorgio Terziani a Giorgio Terziani grazie a Giorgio Terziani grazie a Giorgio Terziani